Si chiama Luce e colori di una torre ed è il primo evento organizzato da Nui da Caregnano, l'associazione costituita ad inizio anno che con grinta e determinazione sta cercando di valorizzare l'unico burgo fanese. In pochi infatti conoscono questa zona, in particolare la sua storia, che grazie all'iniziativa del prossimo 3 luglio verrà riscoperta e raccontata ai partecipanti. L'appuntamento è per le ore 19 nella piazza antistante alla chiesa, il luogo di culto ristrutturato anche grazie alla parrocchia e ai contributi arrivati mediante la raccolta fondi organizzata dall'associazione. Sarà un evento unico, forse nuovo, e appunto vuole non essere una rievocazione storica, anche se il nostro progetto è un progetto prettamente culturale. Questa famosa famiglia dei da Caregnano, in qualche modo importante per la città, noi la racconteremo partendo dal castello, dove scenderanno Angiolello e la figlia Orianna in carne ed ossa, finalmente entreranno a vedere com'è Caregnano nel 2021 e strada facendo nel scendere abbiamo fissato delle tappe con dei cartelli museali che raccontano la storia e troveremo lì anche dei figuranti che rappresentano i personaggi più importanti della casata. E dalla vista muzzafiato della torre oggi di proprietà di un privato che l'ha restaurata in accordo con la sovrintendenza, si scenderà quindi fino alla piazza per una cena in compagnia dei personaggi della famiglia da Caregnano impersonificati dalla Pandolfaccia. Seguirà uno spettacolo del gruppo Impronti. Il costo dell'intera serata è di 28 euro. Il menù della cena a tema sarà in collaborazione delle aziende agricole locali, aziende locali e sarà a posti limitati, 100 persone. È importante prenotare a questi numeri di telefono entro il 28 giugno, in quanto i numeri, i posti sono limitati. Un connubio perfetto tra storia, paesaggio e denogastronomia. Il progetto è sostenuto dal comune di Fano mediante un contributo e il patrocinio, ma questa, assicurano gli organizzatori, sarà soltanto la prima di una serie di iniziative. Infatti, l'8 agosto, un campo di Caregnano, ospiterà un concerto del Fano Jazz, nell'ambito del progetto Terre Sonore. Lo facciamo anche quest'anno, devo dire che anche partire in un momento così delicato, io spero che sia veramente di buon auspicio a tutte le associazioni che ci sono nella città, che possano rimettere in moto i quartieri, che così la città possa tornare viva come era prima della pandemia. Ovviamente in grande sicurezza, ma l'attività che stanno facendo in momento noi di Caregnano, quindi questa nuova associazione per noi è molto importante, quindi pieno sostegno.